Pubblico encomio per il carabiniere in congedo Giovanni Avallone è quanto stabilito dalla giunta di Eboli nei giorni scorsi che ha recepito una segnalazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il riconoscimento è legato all'atto eroico compiuto da Avallone che lo scorso 10 maggio ha messo a repentaglio la propria vita inseguendo alcuni malviventi che dopo averli puntato la pistola contro si erano dati alla fuga venendo fermati dopo un inseguimento rocambolesco nei pressi dell'uscita autostradale di Monte Corvino Pugliano.